musica 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 benvenuti nel nostro nuovo video oggi ragazzi siamo qui con una come potete vedere e oggi giocheremo a porters oh intanto in tv c'è della roba oh mi ha trovato scusate musica 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 Registro... Quindi lagga... Mi dispiace... Però... Ucciso... Iscrivetevi al canale... Mi raccomando... 10 iscritti... 10 iscritti... Sì! Grande Luca! Grande Luca! Sono un po' curiosa... Ero da qui... Ero da qui... Un altro... Ecco qua... C'è mio fratello che mi disturba... Saluta i miei 10 iscritti Spero che questo video andrà bene Come anche il primo 45 Wow Damn Damn E non è impossibile Lavorare così Scusate però No, l'acqua Stando a registro No, l'acqua No, l'acqua Ok ok grande luca ora ragazzi iscrivete Mi sa che era unico, un contro unico. Sì, è bene. Spero che questo video vi sia piaciuto Ricordatevi iscriversi, attivare la campanellina, condividere, mettere like Ciao